E' univocamente considerata uno dei simboli identificativi della città di Fano, seconda forse solo alla Porta Augustea. Fotografata da turisti e da gente locale, messa a simbolo cittadino nei siti web istituzionali ed in locandine promozionali della città, è messa in ogni dove come simbolo cittadino, portata a bandiera dell'identità di Fano. Anche per il nome stesso è la statua che la sovrasta appunto della Dea della Fortuna. E' appunto la tanto amata Fontana della Fortuna che campeggia sul lato occidentale, che fiancheggia Corso Marteotti di piazza 20 Settembre, ricca di storia e di passato, le cui prime notizie si hanno attorno al 1550 e interamente rinnovata nel 1697 dal veneziano Ludovico Torreschini. La statuetta di bronzo poi che vi campeggia sopra, quella che vediamo noi è una coppia, l'originale conservato nei musei civici, è stata collocata solo nel 1611 e andò a sostituire una grande vasca sempre in bronzo. Questo tanto sbandierato simbolo cittadino ci si aspetta che sia oggetto da parte dell'amministrazione di amorevoli e puntuali cure, che la tengano sempre in gran forma e pronta a dare il meglio di sé in ogni immagine che la racchiuda e che parli di Fano nel mondo. Niente affatto, lo status del monumento principe cittadino è agonizzante, come ci hanno fatto notare diversi cittadini, orgogliosi dell'intentità locale, ma doloranti per le mancate attenzione che gli vengono riservati. Pezzi mancanti, bordi sbeccati, cannelle senza acqua e parti monumentali come le grandi conchiglie spezzate in più punti. Ed il basamento poi, inesistente in alcuni punti e fattiscente ostaggio dell'erbaccia in altre, stendiamo un velo pietoso poi sul selciato antistante. L'ultimo restauro degno di tal nome e come segna la targa è stato effettuato ad opera di privati nel lontano 2003, ben 16 anni fa. Superfluo ogni commento. Come superfluo è il commento ad un'altra incresciosa situazione segnalataci dai commercianti, a pochi passi dalla fontana e dai mercatini. Via del teatro, un buco nero nella città, metà spesso di ubriachi ed essere il vespasiano della città a cielo aperto. Basta passarci a piedi che l'odore acre dell'urina e degli escrementi ti riempie le narici. E questo sì per l'inciviltà di alcuni, ma anche per la mancanza cronica in città di servizi igienici pubblici. Decoro urbano cercasi.